Buongiorno, mi chiamo Alberto Conte, sono un professore merito dell'Università di Torino di Geometria Superiore e socio dell'Accademia delle Scienze. Qui con me parlerà insieme a me in questa lezione la professoressa Marina Marchisio, che è professore ordinario di matematica complementari dell'Università di Torino, nel Dipartimento di Biotecologie Molecolari e Scienze per la Salute e anche delegata del Rettore Geona per la didattica digitale. Il titolo nella nostra conversazione è Gli ambienti digitali di apprendimento, in inglese Digital Learning Environment, teorie e buone pratiche. Questa nostra core è fatta in collaborazione tra l'Università di Torino, l'Accademia delle Scienze di Torino e la fondazione I Lincei per la Scuola, che è appunto la fondazione dell'Accademia Nazionale dei Lincei, che ha lanciato questo progetto, I Lincei per una nuova didattica dell'istruzione, una rete nazionale. Noi facciamo parte del polo didattico di Torino, che è appunto coordinato dall'Accademia delle Scienze di Torino e questa nostra conversazione è inserita nel corso di informazione e la matematica del contemporaneo per l'anno scolastico 2020-2021. Il nostro intervento è diviso in due parti, la prima si intitola Ambienti digitali di apprendimento, ridiremo cosa si intende con questo termine, quali sono le teorie pedagogiche connesse e le varie componenti di un ambiente digitale di apprendimento. La seconda parte invece è dedicata a metodologie didattiche e buone pratiche e parleremo in particolare di adaptive teaching, cioè insegnamento adattivo, insegnamento personalizzato, della valutazione formativa automatica, del problem posing and solving e del collaborative learning e team working, cioè dell'apprendimento e dell'insegnamento in collaborazione. Molte delle cose che direvo sono frutto delle ricerche di un gruppo di ricerca che si chiama Delta Research Group, Delta sta per Digital Education Learning for Learning and Teaching Advances, questo gruppo è stato promosso, fondato e coordinato dalla professoressa Marchisio che è qui con me, io ne faccio parte come componente senior, c'è poi l'ingegnere Rabellino che è responsabile dei servizi ICT del Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino, poi ci sono molti giovani borosisti e assegnisti di ricerca che lavorano con entusiasmo su questi temi. Ecco, una prima precisazione anche per capire di cosa stiamo parlando, ci sono molti termini, uno è diventato insomma di moda purtroppo in questi mesi quando è scoppiata la pandemia da Covid-19 che era la DAD didattica a distanza, in realtà sarebbe più corretto chiamarla didattica emergenziale, cioè di fronte all'emergenza, alla chiusura delle scuole, il dramma della pandemia, ogni docente, ogni scuola ha dovuto organizzarsi in modo da continuare a erogare l'attività, gli insegnamenti che prima venivano fatti in presenza attraverso varie forme che si sono dovute in gran parte improvvisare anche perché la pandemia è scoppiata all'improvviso. Per didattica a distanza invece si intende nella letteratura quella proprio che è una didattica pensata, prodotta e organizzata per essere erogata a distanza, essere erogata da remoto. Tipici sono i corsi online dove il docente non è presente, né presenta né a distanza, ma soltanto nei video, nei file che sono stati preparati prima e che vengono poi messi a disposizione. Tipici di questi corsi online, tempo fa oggi si parla più di MOOCs, di Massive Open Online Courses, corsi online massivi perché comportano appunto anche molti tipi di organizzazione e di prestazione. Mentre invece per didattica digitale online, che è il tema di cui parleremo noi, si intende una didattica che può essere sia in presenza sia a distanza con l'ausilio di strumenti digitali che sono consultabili e ottenibili online. Ecco, naturalmente per fare questo è necessario avere a disposizione un ambiente virtuale per la didattica online, cioè un ambiente virtuale che permetta parlare fra tutti coloro che partecipano all'attività, scambiarsi informazioni, documenti, suggerimenti, dare compiti, approfondire tematiche, valutare i compiti dati e studiare poi anche per quello che riguarda gli studenti, eventualmente anche per colto proprio. Oggi il termine appunto che viene usato nella letteratura scientifica che è diventato un po' tema principale per quello che riguarda la didattica online è appunto come dicevamo prima, quello degli ambienti digitali di apprendimento, cioè in inglese ripeto digital learning environment o anche DLE come appunto possono essere abbreviati come magari diremo anche nel corso di questi nostri discorsi per abbreviare i tempi. ecco, che cosa sono? Sono questi ambienti digitali, un ambiente digitale di apprendimento è uno spazio virtuale costituito da diversi strumenti e contenuti che può essere condiviso dal o dai docenti e dagli studenti. Ecco, questo significa che un ambiente, un DLE può essere usato come vedete in alto a sinistra sia quando c'è distanza fisica fra docente e discenti, quindi un docente che in un posto attraverso il computer parla, usa questa cosa e ci sono gli studenti da un'altra parte, ma può anche essere invece usato ed è questo il modo migliore, quello che dovrebbe essere la norma in aula, qui vedete a destra in alto una fotografia dove c'è un docente con una LIM e gli studenti che hanno ciascuno il loro computer, insomma possono vedere come viene utilizzato questo DLE. Può essere utilizzato anche soltanto dagli studenti per fare quello che si chiama cooperative learning, cioè per aiutarsi fra di loro nello studiare e fornendosi anche suggerimenti, idee che magari uno non è avvenuto, è venuto un altro che la condivide con gli altri compagni, oppure come vedete in basso a destra semplicemente da soli col proprio computer in qualunque posto, in qualunque momento attraverso appunto gli strumenti che fornisce il DLE. Componenti fondamentali di un DLE sono essenzialmente tre. La prima componente è la componente tecnologica e cosa si intende con questa componente? Tutto l'apparato, tutti i tipi di device che utilizzano gli studenti, i docenti, è essenziale, è quello che viene detto in inglese Learning Management System, abbreviato LMS, che consiste in una piattaforma. Solitamente in Italia, in Europa, quella più utilizzata è una piattaforma Moodle. Se poi il DLE viene usato per le discipline scientifiche, in particolare per la matematica, sicuramente la componente tecnologica è fatta anche di molti software, come un ambiente di calcolo evoluto o un sistema di valutazione automatica, integrati con la piattaforma per permettere l'apprendimento e l'insegnamento delle discipline scientifiche. Ma torneremo su questi aspetti più avanti. La seconda componente è la componente umana. Per componente umana si intende tutti gli attori che lavorano all'interno di un digital learning environment, quindi i docenti, gli studenti, i tutor. La terza componente invece è costituita tanto dalle metodologie utilizzate dai docenti, dai tutor e dagli studenti, come ad esempio l'adaptive teaching and learning, l'automatica formative assessment, il problem solving, collaborative learning, che sono già stati citati prima, ma anche tutti i tipi di interazioni, interazioni tra pari, cioè tra studenti o tra docenti, interazioni tutor-docente o docente-studente. E inoltre, sempre in questa componente, sono compresi tutti i contenuti preparati e messi a disposizione all'interno del DLE. Per quanto riguarda la componente tecnologica, in questa slide viene mostrata la, diciamo, componente tecnologica del digital learning environment sviluppato per le STEM, le discipline scientifiche, dall'Università di Torino. Vedete, al centro c'è questa piattaforma Moodle, che vedete integrata. Allora, con un ambiente di calcolo evoluto, che vuol dire un sistema adatto, specifico per l'apprendimento della matematica e delle discipline scientifiche, perché vedremo poi consente di lavorare con registri differenti, algebrico, geometrico, numerico e così via. A sinistra vedete l'integrazione con un sistema di valutazione automatica, un sistema che vada ben oltre le domande a scelta multipla, ma domande che contemplino l'inserimento di formule, di grafici e così via. In basso vedete l'integrazione con un sistema di web conference, nel nostro DLE noi usiamo Adobe Connect oppure BigBlueButton o altri sistemi, e in altro vedete un'integrazione con il font Easy Reading. Questo per rendere, diciamo, la componente tecnologica il più possibile accessibile. Il font Easy Reading è l'unico font al mondo, certificato per i dislessici e comunque ad alta leggibilità per chiunque. Qui vedete un momento in cui all'interno del DLE si utilizza un sistema di web conference che permette di utilizzare lo schermo di un computer come se fosse una lavagna, quindi inserire numeri, inserire grafici, scrivere formule e così via. Le caratteristiche principali di un DLE sono quelle che abbiamo indicate in questa slide. Intanto la disponibilità significa che il DLE è raggiungibile praticamente sette giorni su sette, 24 ore su 24. È accessibile, cioè non solo, noi abbiamo detto prima, l'integrazione col font Easy Reading, ma anche i materiali che vengono preparati e messi a disposizione sono preparati in un certo modo per renderli il più possibile accessibili a tutti, in particolare agli studenti con bisogni specifici di apprendimento. L'adattività, cioè un DLE si adatta al ritmo che uno studente ha nell'apprendimento, quindi permette un lavoro personalizzato con i propri studenti. Noi abbiamo indicato la caratteristica dell'assettability, l'abbiamo lasciata in inglese perché in italiano andrebbe tradotta come culturalmente appropriato, cioè un DLE rispetta anche usi, abitudini, culture differenti in quanto viene utilizzato da persone di culture e abitudini differenti. L'ultimo la sostenibilità, cioè un DLE si può facilmente condividere tra scuole, tra università, tra scuole e università contemporaneamente, non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. Le principali funzionalità invece di un DLE sono quelle di intanto gestire l'orogazione e la fruizione della formazione, monitorare tutte le attività svolte dagli studenti e anche i processi di apprendimento e questo è molto importante, rilevare la frequenza, i corsi e le attività formative dell'utente e realizzare attività collaborative. Qui in questo slide potete vedere un esempio di corso progettato per studenti, un DLE, vedete è stato un corso di matematica, ogni diciamo riquadro ha un titolo perché sta a indicare che tipo di materiali e attività troverà lo studente all'interno e le risorse possono essere ovviamente di diverso tipo, pagina di spiegazione, file PDF, PPT, video, animazioni, link e così via, oppure le attività proposte possono essere file interattivi su cui lo studente continua a lavorare, possono essere dei quiz, dei compiti, dei forum, dei glossari, ci possono essere attività di consegna di compiti in un certo tempo, in un certo intervallo di tempo che permette anche loro di diventare più responsabili e permette anche di fare riunioni online. La teoria pedagogica che sta alla base dell'utilizzo dei DLE è sostanzialmente una teoria di tipo costruttivista, qui c'è la definizione classica di von Glaserfeld del 1989 che dice appunto che l'apprendimento è un processo attivo e continuo di costruzione di conoscenza mediato dalle esperienze e dalle relazioni con l'ambiente e la comunità. Quest'ultimo punto è anche molto importante, quello che si è perso con l'attività delle scuole e con l'attività soltanto da remoto. Ecco, la tecnologia può supportare la creazione di ambienti digitali e costruttivisti, in che modo? Beh, attraverso la comunicazione mediata dal computer con quello che si chiama computer support e collaborative work, cioè tutta l'attività collaborativa di gruppo supportata, aiutata e stimolata dal computer, studi di caso, case, studies, celebri e simulazioni e strumenti cognitivi digitali. Per costruire un ambiente di apprendimento costruttivista, secondo Honebein 1996, bisogna realizzare sette obiettivi. Il primo, fornire esperienza nel processo di costruzione della conoscenza. Secondo, fornire esperienza in e apprezzamento di prospettive multiple. Terzo, inserire l'apprendimento in contesti realistici e rilevanti, quindi non soltanto uno studio ariso, senza legami con la realtà. Quarto, incoraggiare la responsabilità nel processo di apprendimento. Quinto, inserire l'apprendimento in un contesto sociale. Sesto, incoraggiare l'uso di modalità della presentazione multiple, peraltro un punto importantissimo che abbiamo già ricordato fra le caratteristiche dei DLE. E infine, settimo, incoraggiare la consapevolezza di sé nel processo di apprendimento, insomma una crescita dell'autotima e insomma sicurezza nello studiare e nell'apprendere. Ecco, quali sono i vantaggi di un DLE, insomma quelli più evidenti, più ovvi? Beh, intanto per chi insegna c'è la possibilità di essere inserito in una comunità di pratica, c'è una comunità di colleghi, di docenti della stessa scuola, di scuole diverse, anche al limite di paesi diversi, comunità di pratica che appunto lavora, collabora nelle forme che vedremo successivamente. Il secondo punto è quello che si chiama adaptive teaching, cioè un insegnamento adattivo, un insegnamento che si adatta alle caratteristiche di ciascuno studente, cosa che naturalmente uno potrebbe immaginare di poter fare anche senza un DLE, ma che nella pratica è praticamente impossibile, mentre invece il DLE lo rende non solo possibile, ma anche facile. Infine la valutazione formativa automatica, questo è anche molto importante, anche da un punto di vista semplicemente numerico, insomma correggere dei compiti comporta tempo, ci sono dei limiti, tanto per dire uno dei progetti dell'Università di Torino orientamente, di cui oggi non parliamo, perché riguarda un altro punto, in un anno sono stati corretti con valutazione automatica e feedback immediato, cioè dando immediatamente il risultato 365 mila compiti, cose che a mano sarebbe impossibile fare o comunque comporterebbe un tempo assolutamente esorbitante. Ma anche per chi studia ci sono vantaggi simmetricamente, lei si è inserita in una comunità di apprendimento, quindi utilizzare e fruire anche delle esperienze, delle conoscenze dei propri compagni della stessa scuola, di altre scuole o al limite di altri paesi. L'adaptive learning, cioè un apprendimento adattivo, personalizzato, adatto alle esigenze di ciascuno studente e altra cosa importantissima, l'autovalutazione con feedback immediati interattivi, cioè la possibilità di autovalutarsi, non soltanto di aspettare che l'insegnante dia un compito, ma quella di poter avere a disposizione una serie potenzialmente infinita di domande, di problemi sui quali esercitarsi e con il sistema che dice immediatamente se la risposta è giusta o sbagliata e che ha una componente interattiva che nel caso di riposizione sbagliata, lo guarderemo poi dopo, permette, spiega anche, dà la soluzione guidata allo studente in modo da portarlo al risultato corretto. Infine un ultimo punto che è diventato molto importante soprattutto negli ultimi tempi, quello che si chiamano i learning analytics, cioè la misurazione raccolta, analisi e comunicazione dei dati relativi agli allievi ai loro contesti di apprendimento al fine di comprendere e ottimizzare l'apprendimento e il contesto in cui questo arriva. Questo permette quindi monitoraggio, revisione e rimutulazione continua, miglioramento del learning design, cioè della struttura del corso e degli interactive learning objects, degli oggetti interattivi di apprendimento e soprattutto scelte oculate nelle politiche educative, basate non soltanto su considerazioni empiriche, ma su dati certi che possono essere elevati attraverso il DLE senza del quale sarebbe impossibile venire in possesso. Se vogliamo entrare in merito a un DLE proprio specifico per le discipline STEM, il ruolo di un ambiente di calcolo valuto è fondamentale. Perché? Perché consente di utilizzare in un un unico foglio di lavoro testo, posso scrivere un testo, commenti, argomentare, posso eseguire calcolo numerico, posso eseguire calcolo simbolico, posso effettuare visualizzazione geometrica in due o tre dimensioni, anche animata, anche posso inserire esattamente come dice il professore animazioni, posso usare anche il linguaggio di programmazione per scrivere delle piccole procedure, per esempio per generalizzare una risposta o creare addirittura delle piccole componenti interattivi che mi consentono di capire cosa succede se cambia qualche parametro. Quindi un ambiente di calcolo valuto è proprio uno strumento flessibile per l'apprendimento delle discipline STEM. Inoltre questo motore matematico in un DLE per le discipline STEM può star dietro alla valutazione formativa automatica come vedremo tra un secondo. Perché il docente può preparare dei file interattivi per gli studenti, gli stessi studenti possono adoperare l'acqua, ma il docente può mettere a disposizione questi file interattivi e lo studente lavora sopra di essi senza la necessità di avere il software sul proprio computer. L'interattività viene mantenuta totalmente. Questo strumento quindi diventa molto importante nelle azioni che il docente vuole fare per il recupero quando ha degli studenti in difficoltà, oppure quando vuole potenziare, cioè ha degli studenti molto bravi che possono proseguire nel loro studio e magari raggiungere qualche ulteriore traguardo. È molto utile per sviluppare competenze di problem solving, ma è anche utile proprio quando lo studente vuole studiare, ripassare o approfondire concetti teorici spiegati dal docente. Questo motore matematico dietro alla valutazione automatica cosa permette di fare? Permette di preparare intanto domande di una tipologia molto ampia, domande che sono algoritmiche. Cosa significa? Che quando lo studente ripete lo stesso compito due volte trova domande della medesima difficoltà, ma con dati diversi. Quindi è possibile anche preparare e assemblare insieme delle domande adaptive che permettono la creazione di test adaptive e questo cosa significa? Di nuovo il docente può facilmente fare azioni di recupero e di potenziamento. Può con questi test far sviluppare competenze come? Dando dei feedback immediati e interattivi che come vedremo tra un po' guidano lo studente quando commette errori a raggiungere la soluzione passo per passo capendo come muoversi. Ecco, quello che abbiamo detto finora esaurisce la prima parte del nostro intervento, adesso inizia è la seconda che come ho detto quando abbiamo cominciato è intitolata metodologie didattiche e buone pratiche. Ci soffermeremo molto su l'adaptive teaching, in particolare cos'è l'adaptive teaching? Intanto abbiamo inserito qui nella slide la definizione data da Boric nel 2011, applicare diverse strategie didattiche a diversi gruppi di studenti in modo che la naturale diversità prevalente in classe non impedisca a qualsiasi studente di raggiungere successo. Cosa significa? Ogni giorno noi quando insegniamo abbiamo di fronte delle classi intanto multiculturali, spesso grazie alla facilità con cui oggi avviene la mobilità internazionale, studenti magari stranieri che sono in classe per un certo periodo limitato di tempo. Abbiamo studenti che hanno diversi stili di apprendimento, alcuni dei quali magari hanno anche qualche disturbo nell'apprendimento o bisogni educativi specifici. Abbiamo anche studenti con inclinazioni e atteggiamenti individuali ben diverse. Però nonostante tutto questo il docente deve sforzarsi per fare in modo che tutti gli studenti possano raggiungere gli obiettivi di apprendimento comuni, perlomeno il livello base. Allora per effettuare questo adaptive teaching ci sono delle strategie importanti, vediamone alcune. La prima è quella del feedback. Abbiamo inserito la definizione data da Atti nel 2007. Feedback sono informazioni fornite da un agente che può essere l'insegnante, il padre, il libro, il computer stesso, un genitore in merito agli aspetti della propria prestazione o comprensione. Dare feedback è molto importante. Il feedback può lavorare su quattro livelli differenti. Il livello dell'attività, cioè del compito che sta compiendo lo studente, a livello di processo, livello di autoregolazione e a livello personale. Un'altra strategia per l'adaptive teaching è l'apprendimento autoregolato. Abbiamo inserito qui la definizione di Pintrick e Susha. Il self-regulated learning è un processo costruttivo attivo in base al quale gli studenti stabiliscono gli obiettivi per il loro apprendimento e monitorano, regolano e controllano la loro cognizione, motivazione e comportamento guidati e costretti dai loro obiettivi e dalle caratteristiche contestuali dell'ambiente. Perché è importante l'apprendimento regolare? Che aiuta a chiarire qual è una buona prestazione. Facilita lo sviluppo dell'autovalutazione, fornisce agli studenti informazioni di alta qualità sul loro apprendimento, incoraggia il dialogo tra insegnanti e pari sull'apprendimento, incoraggia comportamenti positivi e motivazione, offre opportunità per colmare il divario tra prestazioni attuali e desiderate e fornisce informazioni agli insegnanti che possono essere utilizzate per aiutare a modellare l'insegnamento. Un'altra strategia importante per l'adaptive teaching è la valutazione formativa. Esistono tanti tipi di valutazione, lo sappiamo, la valutazione diagnostica, la valutazione standardizzata, la valutazione sommativa, ma la valutazione formativa è una pratica molto utile. Abbiamo inserito la definizione di Black e William del 2009, la pratica in un'aula è formativa nella misura in cui le prove sul rendimento degli studenti sono ottenute, interpretate, utilizzate da insegnanti, studenti o colleghi per prendere decisioni sui prossimi passi nelle istruzioni che sono probabilmente migliori o meglio fondate rispetto alle decisioni che avrebbero prese in assenza delle prove che sono state ottenute. In questa slide vedete i soggetti coinvolti nella valutazione formativa, cioè docenti o tra pari, tra studenti o il singolo studente. Vedete i vari processi nella barra orizzontale in alto e poi vedete a sua volta le strategie della valutazione formativa che sono importanti perché bisogna chiarire bene gli obiettivi di apprendimento e criteri per il successo, capire e condividere gli obiettivi di apprendimento e criteri per il successo, architettare discussioni efficaci e altri compiti di apprendimento, attivare gli studenti come risorse educative per gli altri, fornire feedback, qui si ritrova di nuovo una strategia di nuovo della valutazione formativa che aiutano lo studente a progredire e attivare gli studenti come protagonisti del loro apprendimento. Tutto questo è decisamente facilitato se noi aggiungiamo valutazione formativa automatica perché il DLE ci consente proprio di dare feedback immediato e interattivo, di fornire informazioni sia agli studenti per un'autovalutazione sia ai docenti per un monitoraggio, una revisione anche della loro didattica, magari si accorgono gli studenti non hanno capito qualcosa, allora rimodulano la propria programmazione, tornano indietro, tornano magari su concetti o nodi particolarmente difficili e attiva gli studenti, li rende veramente protagonisti del loro apprendimento. Lì vedete un esempio a sinistra di materiali, di test con la valutazione formativa automatica, a destra un esempio di domanda. Il gruppo di ricerca, il Delta Research Group, ha proprio sviluppato un modello di valutazione formativa automatica e provo a riassumere in queste slide le caratteristiche principali. Intanto la disponibilità è limitata, quello che diciamo anche prima, spesso tutte le domande hanno anche dei tentativi multipli, cioè se lo studente magari è distratto, ha risposto senza concentrarsi, ha la possibilità di ritornare sulla domanda o un equivalente e può provare a rispondere per evitare proprio errori magari di distrazione o di poca concentrazione. Questo significa anche, questa disponibilità è limitata, incoraggia anche le convinzioni motivazionali positive e l'autostima, perché? Perché lo studente può andare quando vuole, con i ritmi che vuole, a svolgere queste attività di valutazione formativa. Le domande e le risposte sono basate su algoritmi, come avevamo detto prima, quindi domande che contemplano parametri, formule, grafici variabili e sono preparate in maniera tale da porre l'attenzione sui processi e non tanto sui risultati. Nel caso di tentativi multipli le informazioni di feedback possono essere utilizzate per colmare proprio il divario tra le prestazioni correnti e quelle desiderate. Questo è importante, cioè noi in genere poniamo dei feedback obbligatori. Lo studente se ha sbagliato è costretto a leggere questo feedback per capire anche dove ha sbagliato. Le risposte sono aperte, nel senso che non c'è solo la scelta multipla, ma lo spettro delle tipologie di domande è molto ampia e in genere vengono utilizzati registi diversi, parole, numeri, simboli, tabelle, grafici, schemi e così via. In genere noi facciamo compiti con non più di cinque domande e i risultati, giusto o sbagliato, vengono dati immediatamente mentre lo studente è concentrato su un'attività, cioè non deve aspettare che il docente ha corretto a casa i compiti e li riporta. Questo abbiamo notato anche nelle sperimentazioni fatte che facilita notevolmente lo sviluppo dell'autovalutazione. Interessante è il feedback interattivo perché il problema grosso è ma se la risposta è sbagliata perché ha sbagliato? Questa non è una domanda semplice a cui rispondere. Come possiamo aiutarlo a capire come arrivare da solo alla risposta? Allora in genere il feedback interattivo poi fa scattare una serie di sottodomande che permettono la risoluzione, specialmente nel caso di problemi, una risoluzione guidata passo a passo e questa cosa aiuta molto gli studenti a chiarire qual è una buona prestazione e ovviamente fornisce informazioni di alta qualità perché il docente che li ha predisposte, background e processi che consentono agli studenti soprattutto di risolvere i problemi quando non c'è un'immediata applicazione di una formula studiata. Infine le nostre domande sono sempre inserite in un contesto reale vicino allo studente in maniera da coinvolgere maggiormente e permettere loro di capire più a fondo i concetti studiati. Ecco vorrei adesso farvi vedere qualche esempio delle cose che ha detto la professoressa Marchisio, proprio il primo esempio è un problema contestualizzato di un gelataio che deve rivestire di marmellata di amarena all'interno di un cono, è un problema di geometria in realtà ovviamente, lo studente ha la possibilità di dare, deve dare una risposta secca, dire quanti centimetri quadrati, ha la possibilità di dare tre risposte, quindi ogni volta verifica, c'è un comando che gli permette significare se la risposta è giusta o sbagliata, dopo tre risposte sbagliate entra in azione quello che diceva prima la professoressa Marchisio, cioè una risoluzione guidata che in maniera completamente automatica permette allo studente di arrivare passo a passo alla soluzione. ma non è soltanto nel campo della teoria fisse, c'è anche la possibilità di usare delle forme di visualizzazione mobili, per esempio questo è un altro problema in cui si danno le questioni parametriche di una curva nel piano e poi si danno tanti, un certo numero di curve, il grafico di un certo numero di curve, qui lì ne è rappresentata una e lo studente deve dire qual è quella giusta e anche qui ci sono lo stesso tipo di questioni di prima naturalmente in maniera diversa perché qui è ancora più specifica la parte animata, la parte geometrica di visualizzazione e anche qui c'è una soluzione guidata che permette allo studente che non è riuscito da solo a trovare la soluzione corretta di arrivarci passo a passo capendo anche perché se è arrivato si deve fare in quel modo. Ma non è soltanto per la matematica o la geometria che si possono dare questo tipo di problemi, qui rapidamente cito soltanto il fatto che si può usare anche in biologia, in biologia addirittura anche in medicina, nell'anatomia offrono possibilità enormi e importantissime le DLA, oppure nel campo della fisica come vedremo le particelle, l'animare, il moto delle particelle, come si attraggono, qui c'è un esempio di rappresentanza di forze ma uscendo anche dalle scienze, dalle STEM, si possono utilizzare questi strumenti per quella che si chiama la glottodidattica, cioè didattica delle lingue, questa didattica in italiano o anche il limite didattica delle lingue stagniere. Per esempio qui c'è un esempio, il bersaglio, bisogna partire da una parola e attraverso affinità, parole affine, arrivare al centro del bersaglio capendo perché si fa in quel modo. Oppure, problema tipico dell'animistica, il criciverbo ha cristografato, difficilissimo, perché qui non ci sono definizioni, ci sono soltanto numeri, caselle che hanno dei numeri e caselle che hanno e o hanno anche delle lettere. Bisogna mettere lo stesso numero, bisogna mettere la stessa lettera e bisogna alla fine comporre tutto il criciverbo. Una cosa importantissima è che in questo caso il DLE può essere integrato con dei dizionari online, qui è citato il nome De Mauro, quello che riguarda l'italiano, e in questo modo si crea una forma interattiva, rapida di confronto, di verifica, è una cosa di enorme importanza, dicono gli esperti linguisti, che per loro è un passo avanti enorme rispetto alla semplice spiegazione verbale. Ecco, qui passiamo adesso a un altro argomento, la persona che lì raffegurata è il celeberrimo filosofo della scienza, Karl Popper, tedesco ma di, anzi austriaco credo, ma poi che ha sempre lavorato in Inghilterra, all'Università di Cambridge. Ecco, Popper scrisse una volta, poi c'è anche un libro che ha questo titolo, All Life is Problem Solving, tutta la vita consiste nel risolvere i problemi. Perché? Perché appunto, diciamo, lui considerava il problem solving come strumento decisivo, perché? Perché permette di apprendere nuove idee e nuovi approcci, di lavorare in gruppo, di applicare conoscenze nella vita quotidiana, di affrontare cambiamenti, di modellizzare una situazione problematica. Ecco, vediamo un pochino meglio cos'è il problem solving nelle discipline scientifiche, nell'esterno. Beh, intanto significa confronto con situazioni problematiche e contestualizzate, significa invenzione di nuove procedure, significa ragionare anche fuori degli schemi convenzionali, significa creazione di soluzioni con un contributo originale, progettando una strategia, significa descrizione argomentata del processo risolutivo, utilizzando diverse registri argomentativi. L'uso delle tecnologie nelle discipline STEM facilita il problem solving, per quale motivo? Perché estende modi di ragionare sui problemi matematici, potenzia l'esplorazione di molteplici modalità di rappresentazione. Pensate solo, se io devo ragionare su alcuni dati, li posso rappresentare in tabella, li posso rappresentare su dei grafici, li posso usare una notazione, anche quindi un registro geometrico, piuttosto che simbolico o algebrico. Consente di rappresentare e esplorare dinamicamente i problemi matematici, per esempio di costruirmi, come dicevamo prima, dei grafici, per capire meglio cosa succede, supporta lo sviluppo di congetture, giustificazioni e generalizzazioni, e importantissimo libera gli studenti dal calcolo. Cosa significa questo? Certo è importante fare i calcoli, ma è importante anche che lo studente non esegua e non si concentra sul calcolo, ma si concentra maggiormente sulla strategia risolutiva. Qui in questa slide vedete riassunto in forma circolare quello che avevamo detto prima come problem solving nella matematica, ma soprattutto con le frecce azzurre si vede che le discipline STEM, soprattutto poi la matematica, che è una disciplina importantissima per lo sviluppo di questa competenza trasversale del problem solving. Perché? Perché mette in campo tanto la discussione, si discute sui dati, sul problema, come trovare la soluzione, si usano le tecnologie che abbiamo visto prima per riuscire a trovare una soluzione, si collabora anche con compagni, con docente per trovare la risoluzione, oltre che ovviamente metto in campo tutte le competenze disciplinarie apprese nella matematica. Vorrei soffermarmi un attimo sul fatto che il problem solving è una metodologia che può essere effettuata con grande facilità, ma è anche molto importante la metodologia del problem posing, cioè porre attenzione al posing di un problema. Tanto è importante curare la situazione in cui si presenta il problema allo studente, una situazione che deve essere reale, sfidante, nuova. Bisogna porre attenzione al contenuto, che ovviamente è un contenuto che o è stato già affrontato in classe o prossimo ad essere oggetto di studio, un contenuto rilevante per le applicazioni, che coinvolge possibilmente altre discipline e anche diversi argomenti nella stessa disciplina. Bisogna fare molta attenzione nel posing alle richieste fatte agli studenti. È bene sempre richiedere una generalizzazione, una richiesta importante sia contestualizzata, deve avere una difficoltà adeguata, può non suggerire un'unica strategia risolutiva, è importante che la richiesta consenta di mettere in campo competenze matematiche. Anche nella risoluzione, anche se questo è già a cavallo tra il problem solving, è importante che la risoluzione preveda che gli studenti scelgano strategie risolutive diverse, che gli studenti ottengano anche risultati diversi e che effettivamente questa risoluzione sia un processo di vero apprendimento. Abbiamo riportato a titolo di esempio un esempio di attività di problem posing e solving, abbiamo messo tutte e due insieme, nelle cinque fasi, cioè la progettazione, la formulazione del testo, la costruzione del processo risolutivo, la generalizzazione della risoluzione e la valutazione. Tanto la progettazione, questo è un esempio che possiamo vedere rapidamente, tanto come scelta dell'argomento è stato scelto l'argomento della proporzionalità diretta e inversa, la contestualizzazione scelta è quello, il viaggio tra due città italiane, adesso purtroppo in questo periodo si può viaggiare poco, ma di solito gli studenti sono interessati a viaggiare quando è possibile, la scelta dei dati, quindi ci saranno dati sulla durata massima del viaggio, sul consumo del carburante, sulle velocità limite da non superare e così via. E si è fatto in modo che sia importante l'esplorazione dei dati, cosa succede se cambio percorso, se il costo del carburante può anche variare. Questo è un esempio di attività che può essere proposto agli studenti, a un singolo studente o come attività di gruppo, può essere anche una fase tradizionale con carta e matita e poi una seconda fase usando l'ICT. La formulazione del testo in questo esempio, tanto la riassumo molto rapidamente, c'è Marco Vivi a Torino e ha scelto Firenze come destinazione delle sue vacanze, quindi deve proprio progettare il percorso e farsi tutti i conti sui tempi, sulle velocità, sui costi e così via. E ovviamente la generalizzazione dirà, prova a valutare se cambi percorso, se cambi velocità, o se cambi carburante e così via. Allora, nella fase 3, nella costruzione del processo risolutivo, si vede che lo studente intanto cosa fa? Fa quello che facciamo noi tutti i giorni, va in internet, si cerca su Google Map i percorsi, sa che ce ne possono essere tanti, se usiamo a pedaggio, senza pedaggio e così via, e comincia a rappresentare, vedete già lì, alcuni dati, sia con registro di formule, ma anche va a rappresentarle su un piano cartesiano. Se usiamo un ambiente di calcolo voluto in DLE, nella risoluzione del problema possiamo comunque inserire tutte le unità di misura che vogliamo, il sistema ne tiene conto, possiamo richiamare risultati precedenti, e possiamo anche facilmente inserire collegamenti con altre discipline. La generalizzazione è importante, e vedete qui c'è una componente interattiva che permette a Marco, allo studente, di rispondere a questa domanda. Come cambierebbe la velocità che Marco deve mantenere il viaggio se variasse l'itinerario? E vedete che prima citavamo un'animazione, e adesso la vediamo. C'è un esempio semplicissimo, ma se ne possono fare migliaia di... E tra l'altro, cosa anche molto istruttiva, si vede la linea retta gialla che indica il limite di velocità, quindi lo studente capisce subito che se per caso va oltre, quindi va a infrangere un limite che non deve essere assolutamente infranto. L'ultima fase è quella della valutazione, ma è importante per un docente, perché è importante che abbia una rubrica, può farlo nel DLE, per esempio questa rubrica è proposta dagli indicatori, il docente corregge il compito secondo questi indicatori, comprendere, individuare, sviluppare il processo risolutivo, argomentare e l'utilizzo dell'ambiente di calcolo evoluto da parte dello studente. Ci sono indicati per ogni indicatore quattro livelli differenti, questo significa non solo correggere un compito in funzione del risultato, ma andare a vedere proprio il processo di risoluzione e quindi vedere anche come apprende lo studente. Ecco, un aspetto che abbiamo già citato, ma che è molto importante e che è reso possibile da un DLE, è quello del collaborative learning. Ci sono comunità di docenti, naturalmente, in una scuola, una classe, e ci sono comunità di studenti e poi nella classe c'è appunto una comunità mista formata da uno o più docenti e dagli studenti. Che cosa consente, cos'è il collaborative learning? è una situazione in cui due o più persone cercano di apprendere insieme, è un approccio educativo che utilizza il gruppo per migliorare l'apprendimento e sono gruppi di due o più persone che lavorano insieme per risolvere problemi, completare obiettivi e imparare nuovi concetti. Ecco, tutto questo serve ed è molto importante a preparare situazioni reali di vita sociale e del mondo del lavoro. E qui ci sono quattro parole chiave, gruppo, cooperazione, competenze e active learning, cioè coloro che imparano in maniera attiva. e ciascuna parola chiave ha poi delle sottoparole chiave dei gruppi del leadership, coordinazione, peer, cioè pari, studente e studente, docente e docente, responsabilità, la cooperazione comporta competizione, ma soprattutto ascolto, interazione e strumenti per cooperare. Le competenze, non sono soltanto le competenze disciplinari, le competenze teoriche, ma anche quelle che oggi si chiamano le soft skills, che sono importantissime, quindi public speaking, la capacità di parlare in pubblico, quella di esprimere in maniera corretta e comprensibile le proprie idee, quella di difendere le proprie idee, di argomentare perché uno ritiene che è corretto in un certo modo e non in un altro. E infine per quello che riguarda i discenti attivi c'è il feedback di cui abbiamo già parlato, l'autostima, l'autovolutazione e l'integrazione. Qual è il ruolo del docente invece in un'attività di collaborative learning? Beh, accompagnare, supervisionare, moderare, rendere autonomo, facilitare, pianificare le fasi, definire le regole, riflettere, valutare. E naturalmente per fare tutto ciò è necessario spiegare chiaramente come funzionerà l'attività di gruppo e come avverrà la valutazione. Ecco, naturalmente collaborative learning si può fare a distanza attraverso appunto le funzionalità del DLE, ma si possono fare benissimo anche in presente, e anche molto importante anche dal punto di vista della socializzazione, del rapporto fra studenti. Ci sono lì alcune foto che appunto vi fanno vedere, ovviamente tutto questo sia possibile fare anche e auspicabilmente sia da fare in presenza. E naturalmente tutte queste cose servono anche per lo sviluppo professionale, cioè imparare il cooperative learning significa avere uno strumento importante, un fattore chiave per il proprio sviluppo professionale nella propria vita anche lavorativa futuro. Naturalmente, diciamo ecco qui, Doppe Deppeler ha citato alcune questioni che riguardano appunto gli insegnanti, cioè teachers learn through collaborating with others. Gli insegnanti imparano collaborando con i propri colleghi, articulating and sharing ideas, articolando e condividendo idea, finding solution to the challenges positive within the context, e trovando soluzioni alle sfide poste all'interno del contesto. Ecco, cosa fa una comunità di docenti all'interno di un DLE? Beh, diciamo, essenzialmente si tratta di avere una comunità di docenti che sono attivi e non soltanto passivi nel processo della propria crescita professionale. Quindi il processo di ricerca collaborativa, una condivisione di idee e di materiali è un supporto reciproco, queste sono le cose che si possono fare attraverso appunto il collaborative learning, e tutto questo porta a una trasformazione delle proprie pratiche didattiche, un miglioramento, un rinnovamento delle proprie pratiche didattiche e alla costruttura di nuove conoscenze professionali. Quali sono gli aspetti della collaborazione online asincrona, non DLE, cioè asincrona quindi quando le persone non sono tutte presenti nello stesso luogo, ma insomma si parlano attraverso la piattaforma virtuale? Beh, amplifica il supporto tra pari, che hanno molti impegni, anche familiari, quindi è difficile trovarsi tutti insieme in un certo momento e che invece si possono fare appunto anche a qualcuno a casa propria, quando è possibile per lui partecipare alle attività. Supporta le dinamiche di interazione e di partecipazione all'interno di un gruppo, permette di espandere lo spazio per le interazioni, dando maggiore possibilità di espressione. Qui diciamo lo strumento tipico per tutte queste cose è quello del forum, cioè il forum in cui appunto c'è un gruppo di docenti si trovano naturalmente in maniera utilizzando il DLE e si sceglie un argomento, qualcuno lo lancia, poi cominciano a essere discussioni, opinioni, cambiamenti, insomma e alla fine c'è un processo di crescita individuale di conoscenze che coinvolge tutti. Abbiamo parlato di ambienti digitali di apprendimento, abbiamo parlato di metodologie didattiche che si possono realizzare all'interno di un ambiente digitale di apprendimento, adesso vediamo un paio di esempi almeno di buone pratiche. Una buona pratica è il progetto ministeriale Problem Posing and Solving, vedete sulla destra il logo e in basso vedete anche l'indirizzo della home page che è aperta a tutti. Questo progetto è una buona pratica proprio per lavorare con gli studenti all'interno di un ambiente digitale di apprendimento con le metodologie didattiche innovative supportate dalle tecnologie. È un'occasione questo progetto di crescita professionale per docenti delle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado. Il progetto inizialmente è stato aperto per i docenti delle discipline STEM ma dallo scorso anno scolastico è stato aperto a tutti i docenti di tutte le discipline. Abbiamo addirittura nel progetto delle scuole che interamente che partecipano con tutti i docenti della scuola quindi interamente accreditati anche tutti gli studenti all'interno dell'ambiente digitale di apprendimento del PP&S. Allora questo progetto durante la pandemia è stato fondamentale di enorme supporto a molti docenti infatti il Ministero della pubblica istruzione aveva anche indicato nella pagina speciale di Rattica durante il coronavirus come una delle piattaforme che poteva essere d'aiuto a tutti i docenti di tutte le scuole italiane. È comunque un progetto che è partito prima dell'emergenza e quindi i docenti tra l'altro che partecipavano già al progetto si sono trovati facilitati in questo momento di crisi. Scusa se ti interrompo perché lì appunto c'è scritto che il processo di transizione della diversità tradizionale è detto online vuoi spiegare bene questi quattro in presenza blended a distanza ibrida perché sono un punto chiave. Assolutamente sì. Infatti dicevo che prima era già partito prima dell'emergenza sanitaria e sicuramente i docenti che già partecipavano sono stati facilitati in questo momento di crisi. Perché? Perché era nato proprio con questa idea di aiutare una transizione dalla didattica tradizionale didattica online che significa adottare questa didattica quando si è in presenza docente con gli studenti in modalità quindi tradizionale in presenza e in una classe sappiamo cosa vuol dire in modalità blended che significa essere a volte tutti in presenza docenti e studenti e altre volte tutti a distanza oppure a distanza quando purtroppo a volte forzatamente siamo tutti costretti a essere distanti ma anche nella modalità ibrida che probabilmente sarà la modalità più usata cosa si intende con questo si intende che il docente speriamo anche presto riprenderà la propria attività in presenza e con tutta la componente relazionale fondamentale ma può benissimo succedere che magari per qualche motivo uno studente si è rotto una gamba e purtroppo immobile a casa oppure uno studente rientra con la famiglia nel paese di origine e si ferma per un tempo prolungato per queste persone che per qualche motivo non possono essere insieme ai loro compagni insieme ai loro docenti adesso questa diciamo questa transizione e l'adozione della didattica online consentirà di non lasciarli indietro ma di permettere di seguire con i loro compagni contemporaneamente le attività didattiche quindi al docente non sembrerà strano avere il più possibile ovviamente gli studenti in classe ma dove ci sono delle impossibilità continuare a lavorare anche tutti insieme anche con quelli che per qualche motivo saranno a distanza e la stessa cosa varrà anche per i docenti perché se per qualche motivo uno dei docenti è costretto a essere a casa potrà però proseguire nella sua attività senza interromperla qui vedete indicati i numeri delle persone delle scuole coinvolte lo scorso anno scolastico circa 800 scuole sul territorio nazionale 1860 docenti e ben oltre 30.000 studenti tra l'altro in questa slide vedete proprio l'home page del progetto PPL questo è un esempio di corso è dedicato di nuovo alla matematica vedete per esempio ogni riquadro ha un argomento per esempio statistiche sulla destra vedete poi il materiale o tutte le informazioni che il docente ha pensato di inserire per i propri studenti e qui vedete invece sempre dentro il progetto PPS ci sono docenti che lavorano con le classi ma si è venuta a creare una comunità di docenti molto molto attiva ad esempio sulla sulla destra vedete il database di materiali che i docenti hanno prodotto e hanno messo a disposizione dei loro colleghi una filosofia open cioè io preparo un materiale lo metto a disposizione e spesso altri docenti usano quel materiale magari lo integrano lo migliorano lo cambiano e lo rimettono a disposizione proprio una filosofia quella che attualmente esiste delle OIR cioè delle open educational resources cioè delle risorse educative aperte condivise tra i docenti questo è un concetto molto importante oggi questo punto di OIR open educational resources o anche quelle OEP cioè open educational practices sono due temi due temi che saranno faranno parte del didattico del futuro sicuramente qui in questa slide ultima vedete invece un esempio di forum quello che citava prima il professor Conte ecco un esempio di forum questo è sulla valutazione automatica dei discipline STEM ci sono temi di discussione a cui postati da un docente a cui altri docenti contribuiscono con le loro opinione ecco questo invece è un altro esempio qui siamo diciamo in quello che dicevo quelle iniziative pensate apposta per la didattica a distanza cioè per essere utilizzate da remoto da qualcuno che si collega col proprio computer e che ha a disposizione del materiale allora questo diciamo è un progetto europeo Erasmus Plus è una delle azioni del Horizon 2020 si chiama Smart poi spiegherò cosa vuol dire vedete in alto comunque l'indiritto dove si può collegare è completamente open e ha creato due corsi online che possono essere utilizzati da chiunque senza nessuna dover nessuna registrazione nessun pagamento ovviamente uno intitolato mathematical modeling e modellizzazione matematica e l'altro observing measuring and modeling insights osservare misurare e modellare nell'ambito delle scienze e questo progetto essendo progetto europeo coinvolgeva attori di più nazioni promosso dal MIUR allora siamo ancora MIUR il nostro ministero c'erano dei partner universitari accademici quindi l'Accademia delle Scienze da cui stiamo parlando appunto dei partner in Italia l'Università degli Studi di Torino e l'Università di Roma 3 poi l'Università Tecnica di Delft cioè il Politecnico di Delft TU Delft e la Chalmers University di Göteborg che è la più importante appunto università Politecnica della Svezia e poi c'erano anche dei partner che hanno delle scuole secondarie in particolare l'Istituto Carlo Antti di Villa Franca di Verona che è la scuola Polo del PPS anche la scuola Polo in Italia per questa iniziativa una scuola ungherese e una scuola tedesca e in più una struttura che si occupa appunto di problemi di trasferimento fra scuole e industria risorse in crescita che è anche molto importante per vedere l'utilizzo nel mondo del lavoro delle cose fatte ecco gli obiettivi del progetto Smart migliorare le competenze professionali dei docenti STEM supportare l'innovazione del sistema di formazione dei docenti offrire ai docenti delle OER cioè Open Education Resource di cui parlavamo prima materiali validati e pronti per essere usati in classe ecco qui c'è un esempio dei materiali prodotti che può essere appunto come dicevo visto in maniera aperta da chiunque sul sito all'indirizzo che vi ho indicato sono in inglese in inglese sono tutti in inglese e quindi diciamo permettono anche di essere utilizzati per la parte di clill importante di fare di fare appunto di fare didattica anche in inglese anche nel nostro paese un altro esempio di materiali ecco forse la professoressa può ricordarci che cosa significa Smart sì l'abbiamo anche indicato forse nella slide qui solo perché così lo vediamo insieme ecco 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 Smart significa Science and Mathematics Advanced Research for Good Teaching ed è appunto che serve per le cose che abbiamo detto ecco un altro tema molto importante che è legato alle cose che abbiamo detto finora ma che non diciamo va ben al di là soltanto di quello che abbiamo detto è quello delle competenze digitali e sono competenze chiave competenze che è importante sviluppare a tutti i livelli di istruzione e competenze trasversali per educatori e studenti la Commissione europea ha già da tempo dato precise indicazioni e sono necessarie naturalmente in ciascun paese la definizione di strategie e politiche nazionali per la digital education guardate che questo è il futuro non ci saranno finanziamenti iniziative progetti di ricerca che l'Unione Europea finanzierà se non si rispettano queste indicazioni ecco allora per diciamo le indicazioni sono contenute in tre documenti che qui abbiamo citato non in ordine cronologico ma per esempio il primo Digital Education School in Europe del 2019 che in realtà è stato poi superato dal terzo Digital Education Action Plan che è uscito recentissimamente nel 30 settembre del 2020 e che diciamo quello precedente è ripensato alla luce di ciò che è accaduto durante la pandemia e poi quello che si chiama DigComp Edu del 2016 allora il primo come dicevo Digital Education High School in Europe è del 2019 dice anche l'indicazione lì dove trovarlo ecco DigComp Edu invece è un quadro di riferimento rivolto agli educatori a tutti i livelli di istruzione questo ha come significa Digital Competence Framework for Educators quindi è esattamente quello che l'Unione Europea si aspetta debbano essere le competenti per tutti gli educatori a tutti di competenze digitali per tutti gli educatori a tutti i livelli di istruzione e questo riguarda quindi non soltanto gli insegnanti di conseguenza anche gli studenti ma anche e forse soprattutto le persone che formano gli insegnanti quindi diciamo i percorsi formativi percorsi di aggiornamento di arricchimento professionale degli insegnanti dentro questo documento sono indicate tutte le aree e le sotto aree più importanti per esempio per quanto riguarda le aree potete leggerle nella slide il professional engagement cioè lo sviluppo professionale e digital resources cioè le risorse digitali l'assessment la valutazione il teaching e il learning ovviamente l'empowering learners cioè il coinvolgimento degli studenti e in ultimo come facilitare lo sviluppo di competenze digitali ai propri studenti come vedete poi ci sono tutte le sotto aree indicate per ciascuno abbiamo provato a fare un esercizio che vediamo con voi molto rapidamente abbiamo preso la buona pratica del PPS e abbiamo provato a confrontarla con tutte queste aree indicate da questo documento europeo la vedete l'area prima lo sviluppo professionale di cui abbiamo indicato le sotto aree che poi e le corrispondenti presenti nel PPS per esempio riflettere sulle pratiche di insegnamento si riflette attraverso il forum piuttosto che la collaborazione professionale e così via oppure l'area delle risorse digitali c'è scritto creating modifying ci sono nel PPS ci sono questi database di risorse condivise sia per il supporto che per il training e così via per quanto riguarda l'area del teaching and learning come vedete c'è proprio per ciascuno l'abbiamo richiamato per esempio se vedete self-regulate learning oppure l'area dell'assessment dove ci parla proprio di feedback e planning e noi abbiamo messo nel PPS si trova la pratica appunto dell'utilizzo di feedback immediati interattivi o analysis evidence e noi all'interno del PPS ci sono tutti i gradebook che forniscono statistiche e reports i cosiddetti learning analytics e anche per quanto riguarda il coinvolgimento degli studenti l'accessibilità di cui si parlava prima quindi come attivarli in modo da renderli protagonisti per esempio il problem solving o il collaborative learning o la peer evaluation e così via e anche poi nell'ultimo caso dove proprio viene citato espressamente il problem solving o la responsabilità e così via ecco il terzo documento che come dicevo è stato pubblicato sul futuro recentissimamente il 30 settembre di quest'anno è la risposta alla crisi covid-19 e si chiama Digital Education Action Plan DAP ed è il piano per l'educazione digitale che l'Unione Europea ha messo in campo per il periodo 2021-2027 che ripeto sarà il diciamo il faro la stella polare per i finanziamenti che arriveranno attraverso il recovery il recovery fund ai sistemi di educazione nazionale e questo piano è stato validato al termine di un ampio processo di consultazione pubblica aperta ed è stato redatto da un gruppo di 30 persone 13 funzionari della direzione di istruzione dell'Unione Europea e 17 esperti nazionali uno dei quali è stata per scelta la professoressa Marchini che è qui con me e quindi le lascio la parola perché nessuno meglio di lei può spiegare di che cosa si tratta questo day up l'obiettivo principale è quello di creare un'istruzione digitale di alta qualità che sia inclusiva e accessibile si vuole imparare dalla crisi covid 19 durante la quale la tecnologia è stata utilizzata in una scala senza senza precedenti nell'istruzione e nella formazione di conseguenza è necessario adeguare i sistemi di istruzione e formazione a quest'era digitale sono state individuate due priorità strategiche considerate strategiche la prima è promuovere lo sviluppo di un ecosistema altamente efficiente di istruzione digitale è importante questo termine ecosistema perché noi stiamo parlando prima di ambienti digitali di apprendimento che ovviamente possono essere messi collegati tra di loro per creare un ecosistema ma non solo a livello nazionale europeo ma se vogliamo anche a livello mondiale di conseguenza in questa priorità è importante prestare attenzione alle infrastrutture la connettività le apparecchiature digitali lo sviluppo delle competenze digitali la formazione degli insegnanti la preparazione di contenuti di apprendimento di alta qualità come si diceva prima si citano le open educational resources e anche le open educational practices la seconda priorità considerata strategica è quella di sviluppare le competenze e le abilità digitali necessarie per la trasformazione digitale cosa significa prestare attenzione a capacità e competenze digitali di base fin dall'infanzia cioè fin proprio dai bambini partire dai bambini piccoli e poi ovviamente sviluppare man mano che si cresce competenze digitali avanzate e poi importantissimo anche ridurre il gap di genere negli studi nelle carriere digitali noi sappiamo bene che purtroppo nelle discipline STEM e in particolare nella matematica il gap di genere è ancora molto forte allora siamo arrivati alla conclusione naturalmente le conclusioni le potrete trarre voi ciascuno può trattare le proprie conclusioni da quello che abbiamo detto noi ci limitiamo a dire che fare didattico online con un DLE permetterà ai docenti di acquisire competenze predisporre materiali e aggiornare la propria didattica l'online deve essere visto come un paradigma additivo e non sostitutivo per la normalità e speriamo di essere riusciti a diciamo a dare sostanza a questa affermazione attraverso gli esempi che vi abbiamo fornito in precedenza per ultimo come sarà la didattica post coronavirus quando auspicabilmente la pandemia sarà terminata potremo tornare a una normalità beh sarà una didattica ibrida nel senso che è stato detto prima basata su un DLE per la quale i docenti metteranno in campo molte competenti digitali e utilizzeranno molte OR e OEP già disponibili allora qui abbiamo diciamo vi abbiamo fornito anche un elenco innanzitutto degli articoli scientifici del nostro gruppo di ricerca che sono alla base delle cose che abbiamo detto poi gli indirizzi dei due siti del progetto problem posing and solving e del progetto SMART per chi voglia andare a visitarli la bibliografia delle citazioni che abbiamo fatto da dove provengono e anche la sitografia in particolare anche troverete qui appunto i siti dei documenti europei che abbiamo citato e ci auguriamo che tutto questo possa essere utile agli insegnanti che ci hanno seguito nella loro pratica didattica grazie per aver assistito alla lezione grazie mille arrivederci grazie a tutti